Musica Si è spento nella notte alla casa del clero di Chiavari, Monsignor Giorgio Battifora, il sacerdote è legato al movimento di comunione e liberazione missionario in Brasile per 13 anni. Attenti ai falsi profeti che spengono l'amore, lo scrive il Papa nel messaggio per la Quaresima, droga, piacere, denaro e social, le minacce di oggi. Offerta della propria vita, incontro con Gesù e luce per gli uomini, tre parole nelle quali si concentra l'esistenza dei consacrati, a spiegarlo il Vescovo in occasione della solennità della presentazione del Signore. 8.000 primule vendute sul territorio in occasione della giornata per la vita, il ricavato sosterrà l'attività dei CAV, è andata meglio degli anni scorsi, dicono i volontari, segno di un'attenzione crescente alla vita. Giochi, laboratori e preghiere per sognare la pace, festa per l'azione cattolica ragazzi della diocesi, amore, perdono e aiutare gli amici tra le ricette dei giovani per costruire la pace. Festa della Madonna dell'Olivo di Bacezza, senza impalcature, restaurata alla memoria, ha spiegato il parroco, perché ciascuno lavori dentro di sé. Domenica la giornata mondiale del malato, in cattedrale la messa presieduta dal Vescovo. Il tema di quest'anno riprende le parole di Gesù in croce che affida a Maria al discepolo. Un corso di introduzione all'ecumenismo lo propone la diocesi, primo incontro il 21 febbraio. Le lezioni saranno svolte dalla docente di teologia Franca Landi, aperte le iscrizioni. Un saluto a tutti, bentornati a Noi Chiesa. Purtroppo dobbiamo aprire con una notizia luttuosa per la nostra diocesi. Nella notte infatti si è spento Monsignor Giorgio Battifora. Lo scorso 20 gennaio aveva compiuto 84 anni. Il sacerdote ha iniziato il suo servizio pastorale nel 1965, ordinato dal Vescovo Monsignor Marchesani. Ha svolto vari incarichi nel nostro territorio. Per 13 anni è stato sacerdote Fideidonum in Brasile. Telepace lo ricorda per la sua collaborazione con la rubrica Missione Mondo. Il rosario sarà recitato domani alle 18.45 nella cappella del seminario di Chiavari. E poi ancora domenica, sempre alle 18.45, il momento di preghiera si terrà in cattedrale. Lunedì 12 febbraio alle 10 i funerali saranno celebrati dal Vescovo nella Basilica di Santa Margherita Ligure. Ora vediamo con Cristina Oneto un ricordo di Monsignor Battifora. Monsignor Giorgio Battifora, popolarmente Don Batti, è stato un uomo e un sacerdote capace di cambiare radicalmente la propria vita per seguire una chiamata. Quella di Don Batti è stata una vocazione adulta, quando ormai il cammino sembrava tracciato. Diplomato ragioniere, impiegato in banca, la decisione di entrare in seminario per seguire la vocazione sacerdotale. Nel 1963 l'incontro, nella sua città natale Santa Margherita Ligure, con Don Giussani ed una nuova svolta vissuta insieme all'amico fraterno Don Pino de Bernardis, iniziare l'avventura del movimento di comunione e liberazione. L'ordinazione sacerdotale arriva due anni dopo, il 23 maggio del 1965, per mano del Vescovo Francesco Marchesani. I primi impegni pastorali come parroco lo portano in diverse comunità del territorio, prima parrocchia a Berzi di Lorsica, viceparroco a Cicagna, poi a Verici, a Santa Margherita di Fossa Lupara, infine a San Paolo in Pila, prima di un'altra scelta radicale che lo porterà per 13 anni, dal 1988 al 2001, come sacerdote o missionario fidei donum nella diocesi di Belo Horizonte in Brasile. Qui si instaurano dei legami solidissimi di amicizia, mai conclusi nemmeno col suo rientro in Italia. In occasione dell'ottantesimo compleanno di Don Batti, tre sacerdoti brasiliani avevano partecipato alla festa organizzata a Santa Margherita Ligure. Ha lasciato sua terra e ha abitato in Brasile per evangelizzazione. È una persona che mostra per noi la grazia di donare sua vita per Cristo. Dal 2002 al 2009 è stato parroco a Santa Margherita di Caperana, direttore dell'ufficio missionario. In questa vesta aveva collaborato con Teleradiopace nella conduzione della rubrica Missione Mondo, prima di ritirarsi dalla pastorale attiva per ritornare nella sua città, Santa Margherita Ligure, dove ha continuato a collaborare con i parroci finché la salute gliela ha consentito nella celebrazione dell'Eucaristia e per le confessioni. Del suo cammino pastorale, Don Batti portava nel cuore l'esperienza degli incontri e del farsi strumento di evangelizzazione. L'esperienza della fedeltà alla missione, della fedeltà all'umiltà, anche se è difficile, per essere servi inutili che il Signore può usare per il suo triunfo. La prossima settimana prenderà il via il cammino della Quaresima 2018, mercoledì 14, mercoledì delle Ceneri. Iniziamo allora dal messaggio del Papa che ha questo titolo Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà il cuore di molti. C'è stata la conferenza stampa in Vaticano, conferenza di presentazione, durante la quale ha parlato il Cardinal Tarkson che ha messo in luce alcuni punti del documento firmato da Francesco. In sintesi, il Papa mette in guardia dai falsi profeti. Vediamo la sintesi. L'amore, grande motore della Quaresima, può essere ostacolato dai falsi profeti di oggi. È su questo punto del messaggio del Papa che si sofferma il Cardinal Peter Tarkson in Sala Stampa Vaticana. Le tre pratiche, digiuno, preghiera e delemosina, possono essere sfidate dal dilagare dell'iniquità, capace di raffreddare l'amore. Denaro, egoismo, droga, i ciarlatani, sono i falsi profeti di oggi, gli incantatori di serpenti, scrive il Papa, che approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro, dentro relazioni usa e getta o in guadagni facili ma disonesti. Truffatori, insomma, che offrono cose senza valore, una vita virtuale che invece toglie dignità, libertà e la capacità di amare. È l'inganno della verità, dice il Papa, che consiglia di imparare a non fermarsi alla superficie delle cose, ma riconoscere ciò che lascia dentro ognuno di noi un'impronta buona e duratura perché viene da Dio e vale il nostro bene. Segnali, prosegue il Papa nel messaggio, che raffreddano la carità. Tutto questo si trasforma in violenza contro coloro che sono ritenuti una minaccia. Il bambino non ancora nato, l'anziano ammalato, lo straniero, ma anche l'ospite di passaggio. Su questo punto, interrogato da un giornalista sui fatti di macerata, il Cardinal Tarkson ha spiegato che la politica oggi corre il rischio di non lasciarsi coinvolgere, un falso profeta che contribuisce al dilagare dell'iniquità. Cosa fare allora? Chiede il Papa nel messaggio, che risponde, dedicare più tempo alla preghiera, permettere al cuore di scoprire le menzogne e segrete con le quali inganniamo noi stessi, educarci all'elemosina, che libera dall'avidità e aiuta a scoprire che il prossimo è un fratello. Infine il digiuno che sveglia, disarma, toglie forza alla violenza, ci fa più attenti a Dio. L'invito del Papa è ecumenico, è rivolto a tutti coloro che al di là dei confini della Chiesa Cattolica sono afflitti dal dilagare dell'iniquità, dal gelo che paralizza i cuori e le azioni, dal venir meno del senso comune di umanità. Mercoledì prossimo, 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, l'appuntamento sarà in Cattedrale a Chiavari con la messa celebrata dal Vescovo a partire dalle 15.30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace, sui canali 15 e 515 HD. Ora facciamo un passo indietro, andiamo a vedere gli appuntamenti che hanno riguardato la Diocesi nei giorni scorsi e iniziamo dalla festa della vita consacrata nel giorno della solennità della presentazione del Signore. C'è stato un momento di preghiera e di festa per i religiosi, le religiose e i consacrati laici del territorio che si sono ritrovati in seminario per la liturgia della luce, poi la processione in Cattedrale e qui la Santa Vesca, la sintesi nel servizio. Offerta, incontro e luce, tre parole nelle quali si concentra la vita dei consacrati, a spiegarle il Vescovo nella messa in Cattedrale muovendo dal brano della presentazione al Tempio. I consacrati, ha sottolineato, hanno donato la loro esistenza a Dio perché prima hanno incontrato Gesù, di cui l'ha chiamata a seguirlo e diventare luce per gli uomini. Di fatto, ha detto il pastore della Diocesi, religiose, religiosi e consacrati laici non sono chiusi e sterili, ma vivono la fraternità, la maternità o la paternità al pari di tutti gli uomini, anche se sembrano parole sottratte dalla vita consacrata. Al termine, il Vescovo ha invitato gli istituti religiosi ad avere il coraggio di portare la novità del Vangelo in un mondo convinto che la vita consacrata sia tramontata o in crisi di vocazioni. La celebrazione ha preso il via nella cappella del seminario, con la liturgia della luce e la processione fino alla cattedrale. Ricordati nell'occasione i giubilei di consacrazione, padre Silvio Lorenzini, dei missionari della Consolata di Cavi, e le Giannelline, suor Giuseppina Nobili e suor Letizia Gasparini, hanno festeggiato il sessantesimo. Suor Carmen De Simone, delle pastorelle di Sesti Levante, ha tagliato il traguardo dei 50 anni di vita consacrata, 25 invece per il frate Cappuccino, padre Aldo Campone. La mia chiamata è stata da giovanissimo e ricordo di essere stato colpito da una celebrazione in terza elementare, forse. Ricordo di essere stato colpito da una celebrazione in terza elementare, forse. E poi ho realizzato questa vocazione a 24 anni, entrando nei Cappuccini, perché allora mi colpì questo ministero così ampio che possono vivere i frati Cappuccini, dagli ospedali, quindi dagli ammalati, alla scuola, al mondo del lavoro, alle famiglie, eccetera, alle parrocchie. Qual è stato il momento di gioia maggiore? Sono stati i miei 18 anni vissuti al Gaslini fino a settembre scorso. Nel corso della celebrazione il Vescovo ha espresso il desiderio che la festa sia un momento di attenzione ai consacrati da parte di tutta la comunità diocesana. Tanti religiosi, le religiose e i consacrati laici presenti per rinnovare il proprio sì al Signore. Quando hai avuto la tua chiamata? Quando avevo 22 anni. Il Signore mi ha chiamato, lo lavoravo e poi ho lasciato tutto e sono adesso dietro a Lui. Qual è stato il momento di gioia maggiore che hai avuto? Quando mi ha chiamato soprattutto a rinnovare questi sì nel momento difficili, nel momento quando dici dove sei, no? E' lì dove Lui ti prende in braccio e ti dici sono qui con te. Non aver paura che sono qua. Io ho trovato la mia strada quando ero ancora giovanissima perché avevo appena compiuto 14 anni. quando ho sentito questo desiderio di consacrarmi al Signore. E da lì ho cominciato il discernimento con il mio paroco fino a 21 anni che sono entrato in comunità. Anche questa sera teniamo una pagina aperta sulla vita consacrata e andiamo a conoscere un'altra storia che riguarda una religiosa del nostro territorio, una monaca eremita che vive a Buto, nell'eremo della visitazione di Buto. Siamo nella zona di Varese Ligure in provincia di La Spezia. Suor Pierantonia Colombo è andata ad intervistarla e dunque cercheremo di capire dalle sue parole qual è l'importanza di una scelta così decisiva, così importante oggi e per la società di oggi. Ascoltiamo allora questa intervista. Ma che cosa ti ha portato Suor Patrizia in un posto così isolato, così lontano dal mondo e sei da sola oltretutto? Siccome non riesco mai a raccontare la mia esperienza vorrei parafrasare un attimo l'omelia che il Papa Francesco ha fatto per la solennità dell'Epifania. Lui sottolineava il camminare, no, innanzitutto il guardare in alto. Questo guardare in alto ti fa camminare, camminare che significa anche rischio e dopo il rischio l'offerta di sé, l'offerta, il dono gratuito. Per cui direi che innanzitutto c'è stato il guardare in alto, cioè una ricerca continua di Dio, di questa esperienza di un Dio che però fosse un Dio che umanizzava la realtà. Per cui sono stata in un monastero, poi via via il cammino è stato andato avanti. Grazie a Cardinal Martini ho capito che cosa cercavo. Cercavo un luogo di solitudine, un luogo isolato dove potevo essere come gli altri, cioè un lavoro, una vita normale, quotidiana, ma allo stesso tempo una vita di preghiera, quindi disponibile all'altro e questo è il rischio. E poi ecco c'è stato quello del dono che probabilmente è il dono gratuito da dare all'altro. E uno si chiede che cosa può fare un eremita come dono gratuito da dare all'altro. Allora mi sono detta il dono che io posso dare, non volendo essere una madre spirituale, come di solito uno pensa che possa essere un eremita o una religiosa, era quello del luogo, quindi un luogo bello dove c'è la bellezza, questa bellezza che salverà il mondo, un luogo silenzioso dove ognuno può ritrovare se stesso. Perché il camminare, appunto il rischio che vedevano nel camminare, questo camminare che non è un camminare andando avanti solo giorno per giorno, ma un camminare per un ritorno dentro di sé, un ritorno che è uno che vuoi, quindi che diventa anche conversione. Qui, allora, l'ora e il labora sicuramente è ancora importante nella tua giornata. Come la scandisci? Io sono molto legata alla spiritualità benedettina, per cui all'ora e te labora. E a volte, confesso, in alcune stagioni è molto più il labora dell'ora. La vita benedettina, così come la vita eremitica, così come ho scelto, con la mia piccola regola che ho presentato al Vescovo, è appunto scandita dai momenti di preghiera e dai momenti di lavoro. Un lavoro molto intenso, perché per mantenerci, noi abbiamo sempre, dico noi perché all'inizio eravamo in due, abbiamo sempre deciso che dovevamo mantenerci col nostro lavoro, quindi abbiamo fatto delle coltivazioni, abbiamo sterrato tutte queste cose che c'erano intorno, che erano tutti rovi, abbiamo fatto le coltivazioni dei piccoli frutti, da questi piccoli frutti traiamo dei prodotti, quindi facciamo le marmellate, i liquori a freddo, chiaramente, trasformazione a freddo, che poi vendiamo nei mercatini. Molti si chiedono, ma come mai un'eremita fa i mercatini? Allora io ritorno sempre ai vecchi eremiti del IV secolo, che erano quelli storici che tutti noi ci immaginiamo, che facevano le ceste e poi le andavano a vendere al mercato. Giungendo in questo luogo, tu vedi subito due campane, vuol dire che allora tu puoi accogliere delle persone, aspetti anche che qualcuno suoni questa campanella. Io sono qui da 16 anni e quando siamo arrivate questo era un rudere, adesso è diventato l'eremo, però subito abbiamo pensato a chiamarlo l'eremo della visitazione, innanzitutto perché appunto, come dicevo prima, la spiritualità benedettina, per cui l'ospitalità è sacra, l'ospite è Cristo che viene a visitarti. Per cui abbiamo pensato subito a questo nome, perché per accogliere le persone, cioè dare la possibilità alle persone, pochissime perché, avete visto la realtà è molto piccola, di trovarsi e visitare, cioè visitare se stesso, visitare Dio, cioè come dice Levinas, la visitazione è l'incontro di due volti. E così ecco, la visitazione per noi era l'incontro invece di due volti, Maria e Elisabetta, ma anche due volti che generano, quindi l'incontro con l'altro per noi è molto importante, perché con l'altro tu incontri Cristo e questo genera qualcosa in te, genera qualcosa nell'altro. E ora parliamo della giornata per la vita, anche questa celebrata nella nostra diocesi. Il numero delle primule vendute quest'anno è aumentato ed è una notizia importante perché il ricavato andrà a sostenere l'attività annuale dei centri di aiuto alla vita del nostro territorio, che sono quattro, il centro aiuto alla vita di Sesti Levante, Chiavari e di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Siamo andati a trovare i volontari ai banchetti allestiti a Chiavari. Sentiamo le interviste. Quasi 8.000 primule vendute dai CAV del territorio, un successo l'edizione 2018 della giornata per la vita. I fondi raccolti in diocesi aiuteranno le attività dei centri di aiuto a sostegno delle mamme in difficoltà con una gravidanza. Nello specifico, a Chiavari sono state vendute 3.350 primule, a Sestri Levante 2.500, a Rapallo e Santa Margherita Ligure 1.800 in tutto. Numeri che superano quelli dello scorso anno e che in generale sottolineano una maggiore attenzione alla vita nascente. Il CAV aiuta trovando queste fonti di sostentamento sicuramente con la vendita delle primule e poi cerchiamo anche di reperire generi di prima necessità un po' acquistandoli ma anche con altre associazioni come per esempio il Banco Alimentare. Cerchiamo di coinvolgere le persone a donarci materiale come vestitini, carrozzine, cioè cose che ormai le famiglie non usano più ma per noi sono necessarie. Nella giornata di domenica i banchetti dei CAV erano presenti un po' ovunque sul territorio diocesano, nelle piazze, lungo le vie principali e sui sagrati delle chiese. A presidiarli decine di volontari, ogni giorno punto di riferimento per tante coppie in difficoltà. L'attività del volontario è importante perché è bello condividere il tempo, condividere quello che si può avere è importante per dare importanza a chi viene a condividere i suoi problemi, le sue difficoltà e essere vicini, accompagnare chi si trova in una situazione così di particolare afflizione magari è già quello un aiuto e quindi la vicinanza della persona che è fondamentale nel volontariato. Le persone si interessano a questa giornata, vedono il vostro banchetto, chiedono informazioni? Tantissimo, le persone si fermano, chiedono, comprano le primule, non comprano le primule, lasciano un'offerta. È molto sentita questa giornata. E ora parliamo della festa della pace, dell'azione cattolica ragazzi della nostra diocesi. I giovani delle parrocchie del territorio si sono ritrovati all'istituto delle Giannelline di Chiavari per approfondire questo tema e soprattutto toccare più nel profondo il titolo di questa festa, Sognare la pace. Sentiamo l'intervista. Qual era il tema del giorno? I sogni di pace. I sogni di pace sono quelli che fanno i bambini di tutto il mondo. Sono sogni che a volte vengono spenti, come luci che si spengono un pochettino nel mondo a causa della violenza, a causa della rabbia, dell'odio, della paura, di tutte queste cose qua. E noi invece vogliamo dare un vento di speranza, ecco, portare i nostri ragazzi anche di qua a credere in questi sogni di pace. È stata una domenica intera investita su questa parola, che cosa avete fatto? Alla mattina ci siamo divisi e abbiamo fatto diversi giochi, giochi che avevano un po' lo scopo di trovare delle parole che potessero riaccendere questi sogni di pace, per esempio, meraviglia, fantasia, divertimento, tutte queste parole qua. Dopodiché abbiamo fatto una messa tutti insieme, dove i ragazzi si sono impegnati nei canti e nella celebrazione. Poi abbiamo pranzato al sacco tutti insieme fuori e infine abbiamo fatto dei laboratori nel pomeriggio, perché abbiamo fatto arrivare delle lettere e dei disegni da diverse parti del mondo e i ragazzi hanno dato una risposta con altri disegni e altre lettere che poi spediremo indietro, in maniera da davvero coinvolgere un po' tutto il mondo in questa nostra voglia di riaccendere i sogni di pace. I ragazzi che cosa è emerso su questo tema della pace, come l'hanno affrontato, cosa dicono? Gli è stato chiesto per esempio nel loro quotidiano come vivono questa pace e qualche cosa è uscito di bello, hanno detto col perdono, con l'aiutare gli amici, con l'amore, queste cose qua. D'altra parte quando gli abbiamo detto anche quali sono quelle parole che invece spengono i sogni di pace, sono stati proprio loro a dire le parole odio, violenza, invidia, tutte queste parole qui che probabilmente sentono molto vicine a loro, quindi è una cosa che questo è un tema che li tocca sicuramente molto da vicino. Cambiamo tema, ora andiamo al santuario di Bacezza a Chiavari dove è stata festeggiata la Madonna dell'Olivo a presiedere la messa, di cui vedrete le immagini, il vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. Il parroco ha spiegato che questa è stata la prima festa dopo alcuni anni senza le impalcature, infatti è stato restaurato l'esterno del santuario. Il restauro della memoria esterna, ha spiegato Don Giacomo Canepa, è utile per lavorare all'interno, per lavorare su se stessi. L'intervista di Maria Bukovic. Qual è l'origine di questa festa? Il quadro di Maria. La tradizione dice che è stato ritrovato in questi campi di olivo qualche decennio prima dell'anno 1000. Secondo questa tradizione, quindi, questo è il luogo dove è iniziato il culto di Maria a Chiavari, perché chiese o santuari dedicate a Maria così antichi in Chiavari non ce n'è prima e anche in Liguria solo il santuario di Soviore anticipa. quindi è un luogo antico, di memoria antica e di memoria dedicata a Maria che non tiene tanto per sé le preghiere o le devozioni oppure il fatto che la gente si rivolge a lei, ma lei ci porta Gesù, ci indica Lui. Dopo tre anni viene festeggiata la messa senza le impalcature dei lavori. Abbiamo un po' ripristinato la bellezza anche esteriore di questa chiesa, anche l'illuminazione, ma semplicemente per il fatto che la bellezza attrae. Allora non è fino a sé i lavori, ecco, sono anche, e questo mi ne dà testimonianza gente anche non della parrocchia, proprio di Chiavari o anche di passaggio, che vedono questa chiesa, la notano un po' di più da quando ci sono stati i lavori. Notano un po' di più anche quelle che sono le testimonianze di simboli come appunto l'esterno, la facciata, il campanilo, l'interno, anche le statue restaurate, l'illuminazione rinnovata. Ecco, è un segno per dire che vogliamo mantenere la memoria per mantenere viva la fede. La bellezza ci fa stare bene, ci fa stare bene anche dentro e con Dio. E ora la presentazione della giornata del malato che nella nostra diocesi si svolgerà domenica 11 febbraio con la messa in cattedrale alle 15.30 celebrata dal Vescovo. Anche in questo caso la celebrazione sarà in diretta su Telepace, sui canali 15 e 515 HD. Vediamo una presentazione del valore, del significato di questa giornata con Don Mario Cagna che è il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute, intervistato da Cristina Oneto. Nel messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del malato 2018 si fa riferimento alle parole pronunciate da Gesù sulla croce rivolte a sua madre Maria e al discepolo Giovanni. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Quest'atto di affidamento reciproco dà un atto di indirizzo dinanzi al mistero della croce. Ciascuno è chiamato a curare ed essere curato. In queste pochissime parole veniamo un po' invitati a fare un cammino che è molto ampio, che apre tanti capitoli della nostra vita. Il capitolo dell'ascolto, il capitolo del lasciarsi voler bene, lasciarsi curare, di riprendere una storia e in questo il Papa poi riprende anche la necessità di dare valore ad ogni vita, anche la più fragile. L'intelligenza organizzativa e la carità esigono che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro del processo di cura, nella consapevolezza che la sofferenza può cambiare il modo di pensare sia del malato sia di chi lo acudisce. Normalmente cambia il modo di pensare, anche perché, non so se sbaglio, ma se io penso alla vita, è la vita sana, è la vita senza problemi, senza difficoltà, bellissima. E non è così. Non è finita la vita se sto male. Non è finita la vita, non è lo sbaglio della vita il non avere salute. Il momento di incontro e preghiera, che culmina con la celebrazione della giornata del malato, non si esaurisce in un giorno all'anno, ma produce effetti che si protraggono nel tempo, consapevoli che dai momenti di maggiore debolezza umana possano scaturire grandi doni. Quando è che Gesù è più debole? Se non quando è inchiodato su una croce, non può più muoversi, non può più andare incontro alle persone, non può più fare niente, sta morendo. e in quel momento donna Maria a tutta l'umanità e il discepolo viene chiamato ad un compito di cura anche degli altri. Nella debolezza maggiore di Gesù c'è un dono grandissimo, mentre noi spesso pensiamo che si può dare solo nella forza. Ecco, mi pare che l'icona del crocifisso che dona al figlio, la madre, la madre al figlio, nel discepolo amato, ci dice che nella debolezza c'è tanto da dare. Ci avviciniamo alla conclusione di Noi Chiesa, approfondiamo un tema in questi ultimi minuti, il corso sull'ecumenismo. È una serie di lezioni che si svolgeranno qui sul nostro territorio diocesano dal 21 febbraio sino alla fine di maggio. Cerchiamo di capirne di più con il direttore della scuola di teologia di Chiavari, Don Mauro Gandolfo. Benvenuto. Buonasera. Allora, un corso sull'ecumenismo. È la prima volta che si fa un'iniziativa di questo genere in diocesi. Come mai? Che necessità avete riscontrato? Sì, credo di sì. Innanzitutto il corso è inserito nel quadro della scuola di teologia e quindi rappresenta una tappa di questo percorso. È stata la risposta che la scuola ha voluto dare alla richiesta che è nata dalla Commissione diocesana per l'ecumenismo e per il dialogo interreligioso di avere un momento di approfondimento circa la rilevanza che ha oggi l'ecumenismo nella vita della Chiesa. Ecco, e quindi abbiamo risposto a questa richiesta che è venuta dalla diocesi offrendo la possibilità di frequentare questo corso. Durante gli incontri di gennaio c'è stata la tavola rotonda a Rapallo, c'è stata la celebrazione ecumenica. Si è visto quanto è importante continuare questo percorso che tra l'altro in diocesi mi pare stia dando frutti importanti. Sì, sì, sono alcuni anni, mi sembra che la diocesi ha avviato un buon dialogo sia con i fratelli protestanti che con gli ortodossi, quindi soprattutto a livello di chiese cristiane mi sembra che ci siano alcune tematiche comuni e quindi questo chiede anche una maggiore consapevolezza da parte nostra dell'importanza che oggi l'ecumenismo ha per la vita anche di una Chiesa locale come è la nostra. Durante la tavola rotonda proprio di Rapallo si evidenziava come ecumenismo possa essere anche in un certo senso sostituita con la parola fraternità, quindi il comportarsi come fratelli che a volte vuol dire anche il segnalare i propri errori. È su questa strada che si può vedere il futuro dell'ecumenismo? Sì, mi sembra che oggi anche da parte della Chiesa cattolica ci sia stata un ripensamento forse delle relazioni soprattutto con i fratelli separati in Occidente, protestanti e anche un riconoscimento forse di colpe del passato, recentemente anche gli ultimi incontri che il Papa Francesco ha fatto, penso all'incontro in Svezia, il Papa ha riconosciuto ad esempio che la riforma non è nata in opposizione al cattolicesimo ma come una revisione forse di un tipo di cristianesimo che si stava spegnendo, ecco quindi ha valorizzato anche l'evento della riforma di cui quest'anno insieme cattolici e protestanti hanno ricordato i 500 anni. Allora veniamo al corso di introduzione all'ecumenismo, si parte il 21 febbraio e si terminerà il 30 maggio, chi verrà a tenere questi incontri? Abbiamo chiesto di tenere il corso alla professoressa Franca Landi che fa un corso simile nella diocese di Laspezia e quindi come dire era già un po' rodata su questo tema e quindi ci siamo affidati a lei. Quali saranno i temi affrontati, che tipo di tematiche avete condiviso? Il tema partirà un po' dalla conoscenza dell'inizio del movimento ecumenico, quindi come è nato questo movimento all'interno della Chiesa, chiaramente poi si soffermerà sulla svolta impressa all'ecumenismo dal Concilio Vaticano II e poi arriverà appunto agli ultimi passi a cui accennavo prima che sono la dichiarazione congiunta sulla giustificazione del 99, quella sul primato di Ravenna e quella degli ultimi dichiarazioni di Papa Francesco proprio di questi ultimi anni. E' anche un percorso nella storia potremmo dire, perché vengono affrontati alcuni temi e anche alcuni documenti, la dignità disumane, il Concilio Vaticano II, i rapporti con l'ortodossia, quindi è sicuramente anche un interesse non solo religioso ma anche storico. Sì, chiaramente l'esigenza di questo corso era quello di possedere un po' l'ABC dell'ecumenismo e quindi anche di conoscere poi che cosa la Chiesa in questi ultimi decenni ha maturato e quindi si leggeranno questi documenti, credo. Sicuramente sarà un corso impegnativo che chiederà, io spero anche una partecipazione assidua a tutte le elezioni, perché si tratta di un percorso e quindi è importante essere presenti dall'inizio alla fine. Ecco, allora chi può partecipare a questi incontri? Chi invitiamo? Sì, io direi che invitiamo innanzitutto coloro che nella diocesi stanno curando un po' questo rapporto, penso a coloro che fanno parte anche della Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ecco, io sarei anche felice se partecipasse qualche fratello separato, protestante o ortodosso, ecco perché, ripeto, il corso è basato sulla conoscenza, sullo studio e anche sul dialogo e quindi, come direi, che ci sia un confronto venga. Allora diamo un altro punto di riferimento, ossia il termine per iscriversi, perché c'è una data entro la quale poter dare la propria adesione. Qual è? Ecco, il corso inizia il 21 febbraio, quindi sarebbe bene che durante l'orario di apertura della segreteria, che è da lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19, ci fosse l'iscrizione. Quindi direi lunedì 19 potrebbe essere l'ultimo tempo per iscriversi. Le lezioni poi si terranno il mercoledì dalle 18.45 alle 20.15, per iscriversi che cosa occorre fare? Ma niente, soltanto anche telefonicamente si può, come dire, manifestare la propria adesione telefonando allo 0185 31 36 80 o scrivendo l'e-mail anche issr.ch.chiocciolalibero.it, comunque poi si pagherà la quota di iscrizione, quindi soltanto lasciando il nome e cognome, il numero di telefono, nient'altro. C'è ancora un'iniziativa che riguarda la nostaliocesi e che tra l'altro prenderà il via proprio il 21 febbraio. Di che cosa si tratta domani? Si tratta di un seminario sull'esortazione apostolica di Babbo Francesco a Moris Letizie. E quindi quando saranno gli orari, dove ci si vedrà per parlare? Sarà un seminario, quindi non è propriamente un corso, un lavoro che comporta anche la partecipazione e la ricerca da parte degli studenti e si svolgerà sempre il mercoledì sera, dalle 20.30 alle 22, quindi dal 21 febbraio fino alla fine di maggio. Anche in questo caso bisogna iscriversi? Sì, anche in questo caso bisogna iscriversi sempre all'orario che abbiamo già ricordato in segreteria. Bene, grazie allora Don Mauro Gandolfo per averci presentato questa iniziativa a livello di Ocesano. Grazie a voi, arrivederci. E con noi Chiesa ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci. Grazie a tutti.